Il massimo dei massimi Questo è famoso Joe Beruccio con la sua splendida mogliettina E lui è il proprietario del canale E noi ci siamo permessi addirittura di sfidarlo in maniera di cibi Tutto alla grande Tutto alla grande Dovevo venire prima E' il momento di andare Tutto alla grande Tutto alla grande Tutto alla grande